Ben ritrovati amici del centro medio italiano. Il profondo vortice depressionario si muove in questione sull'Europa orientale, mentre sui settori centro-occidentali del vecchio continente è ancora l'anticiclone a dominare con valori assuoto fino a 1030 etto pascal tra Francia e isole britanniche. Vediamo comunque nel dettaglio e con la sito della grafica accanto le previsioni medio per domani, martedì 31 ottobre. Al mattino, tempo stabile su gran parte della penisola con nuvolosità irregolare alternata a ampie schiarite, da segnalare qualche pioggia su Calabria e isole maggiori. Tempo instabile su estremo sud e isole anche nel corso del pomeriggio con locali acquazzoni, cieli sereni o poco nuvolosi sul resto della penisola. In serata e nottata residui piogge su Calabria e Sicilia, tempo stabile con cieli prevalentemente sereni altrove. Le temperature sono previste stazionarie o in generale calo sia nei valori minimi che in quelli massimi da nord a sud. Per ulteriori dettagli scaricate la nostra app medio o cercare direttamente la località che vi interessa sul nostro sito. Un saluto da parte del Centro Maritaliano.